C'è un chihuahua bianco che conduce una vita agiatissima a Beverly Hills, ma durante una gita clandestina in Messico si perde e tutti la seguono per salvarla o per impossessarsi della sua collana di diamanti. Interpreto Rachel Ash, una ragazza egocentrica di Beverly Hills e devo occuparmi del cane di mia zia che è via per affari. Ma non sono una brava dog sitter e quando i miei amici decidono di andare in Messico porto il cane con me. La sua ricchissima e stravagante padrona è una Gemily Curtis che con lei vive in delirante simbiosi. Veramente conosco un paio di persone che hanno cani piccoli ai quali sono molto legate. Ma non conosco nessuno che ha un rapporto così bizzarro con il suo cane come quello del personaggio. A un punto cruciale della propria vita, Gemily Curtis ama ancora il cinema, anche se le sue priorità sono diventate altre. Fare finta di essere un'altra? Lo adoro. Creare un personaggio? Lo adoro. Ma i ritmi del set ora mi annoiano a morte. Molto del mio tempo e della mia energia adesso sono dedicati a mio figlio e alla politica. Inizio a chiedermi, perché sono qui? Cosa dovrei fare? Lo sto facendo? Ho 50 anni e un sacco di questioni mi ronzano attorno. Beverly Hills Chihuahua vanta un ottimo cast vocale. La voce della cagnetta protagonista infatti è quella di Drew Barrymore, mentre altri personaggi sono doppiati da Andy Garcia e addirittura dal famoso tenore Placido Domingo. Ho partecipato soprattutto per i miei nipoti. La loro considerazione nei miei confronti è cresciuta molto da quando ho accettato di fare il film. Non preoccuparti, piccolo, troverai il tuo barco. Ma ancora più importanti sono stati ovviamente gli attori a quattro zampe, perfettamente coordinati da un'esperta troupe di addestratori. È stata un'esperienza affascinante vedere gli addestratori al lavoro mentre si recita. Ci sono delle difficoltà, ma qualche volta accade un piccolo miracolo. E tutti dicono, wow! È come se i cani capiscano veramente. In un film come questo, con effetti speciali, gag umoristiche e animali, mescolare tutte e ottenere il giusto ritmo è complicato. Beverly Hills Chihuahua è un film frizzante con una morale, in perfetta tradizione Disney. Speriamo solo non scateni un'insana passione per questi cani topo negli spettatori più piccoli. Chihuahua! Chihuahua!